novantasette 왜? perché? novantotto miocché? quanto? novantanove 어때? com'è? cento 그게 언제인데? quando è? cento uno 이게 뭐예요? cosa è quello? cento due 누구세요? chi sei? cento tre 누구세요? chi è? cento quattro 어떻게 지내요? come stai? come stai? cento cinque 너 어디야? 너 어디야? nove sei? cento sei cento sei 그게 어디에 있나요? nove è? cento sette cento nove 어디 있었던 거야? 어디 있었던 거야? dove eri? cento nove cento nove 얼마나 멀리? 얼마나 멀리? quanto lontano? quanto lontano? cento undici cento undici 얼마나 자주? per dove? 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 per dove?